Siamo con il dottor Giusto, presidente dell'ordine dei medici, buongiorno. I sintomi di questa malattia, della celiachia, quali sono? I sintomi essenziali sono questi, proprio diarrea, anemia, disturbi di tipo intestinale che impediscono l'assorbimento del cibo e quindi dimagramento e in certa età, soprattutto anche a una certa età adulta, purtroppo tante di queste patologie non sono riconosciute. Per esempio una cosa caratteristica è avere un'anemia sideropenica, cioè avere il ferro diminuito nel sangue per anni e appunto porta al fatto che gli organi ovviamente sono debilitati e è importante riuscire a riconoscerla perché si cura soltanto eliminando il glutine. E quindi è una cosa elementare, insomma. Una cosa elementare che purtroppo però, non essendo stata considerata una patologia dell'adulto e veniva considerata soprattutto una patologia del bambino, nei medici non era presa in seria considerazione. Per tanti anni è stato così, ora è cambiato completamente la mentalità e quindi la si prende in considerazione.